Scusi sulle nazionalizzazioni? Sulle nazionalizzazioni, come sapete, ho avviato la procedura di caducazione della concessione ad Autostrade per l'Italia e la procedura è in itinere, non mi posso pronunciare sull'esito perché abbiamo appena ricevuto le repliche d'Autostrade per l'Italia, le stiamo valutando. Tutto lo Stato! Procederemo alla fine a una sintesi finale e assumeremo la determinazione del Governo. Sarà una determinazione, una decisione sicuramente molto ferma e risoluta, non intendiamo far sconti a un concessionario a fronte di una tragedia simile. Per quanto riguarda poi la prospettiva futura la stiamo discutendo, non vi posso dire oggi, come avete già qualche anticipazione, è stata avanzata in direzione della nazionalizzazione. Però direi che la decisione finale ce la riserviamo perché quello che a noi interessa è tutelare appieno il patrimonio dello Stato da un lato e assicurare avere le massime garanzie di tutela dell'incolumità dei cittadini. Se questo avverrà attraverso lo strumento della nazionalizzazione, attraverso lo strumento di una nuova gara, in base a condizioni contrattuali completamente diverse, lo vedremo. Grazie. Grazie.